Ora io scorro le carte così e te mi dici stop quando vuoi. Il mio stop è prima. Ok, tieni la carta. Guarda, la possono vedere tutti, anche io non c'è problema. Tanto il mazzo lo tolgo. Usiamo quella carta. No, usiamo quella carta. Falla vedere, Mauri. La telecamera anche. Posso vederla anche io. Può vederla anche chi è. Ok, l'idea di quadri. Guarda, perché la gente si può immaginare chissà cosa. Ti dico perché si bruciano le carte. Le carte, non so se te l'hanno mai detto, però hanno un'anima le carte. Ora proviamo a usare l'anima delle di quadri. Ok, guarda, c'è il fumo. Ok, cosa faccio? Prendi un po' di fumo e la metto sui braccio. Poi lo vedi. Ok? A 10 euro il grammo se è molto. Cosa si fa? Si prende un po' di ceneri. Guarda pure la metà della carta. Prendendo la ceneri la metto un po' sui braccio. Vedi niente di strano? No. Ti che carte hai scelto. È lui o non è lui? Mancano un po' di grande. È stato grande. Mancano un po' di grande. Mancano un po' di grande. Mancano un po'. special prize è un tatuaggio che aveva quando ero figo gli riesci a far scomparire anche quello degli iu dammi la mano è difficile farla Maurizio fai così con la mano mi manca un hit cosa facciamo si chiude la mano questa è difficile è troppo difficile non è droga apri la apri la vieni qui ti fa cedere una cosa vieni vieni qua un mano aperta la bustina cosa si fa cedo la mano si chiude la mano si lancia dammi la mano resta bella questa è la ghia se si chiama il dito fare tanto che non mi sono le carte guarda fare tendo che vuoi alza il marzo che vuoi si prendi la prima carta riguarda la scuola ok no tieni la seconda carta Lorenzo ah questo lo va Lorenzo prendo la terza carta allora posso sapere qualcosa di queste carte no però diciamo se mi dai un aiuto ci posso arrivare vorrei che se mi dicessi insieme nella carta fuori quasi teori o fuori 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 ok Lorenzo da te invece voglio il valore della carta il numero il numero dieci dieci ok e te niente e te ci vuoi provare ad arrivare la scuola allora metto fuori rossa è un numero tu hai scelto sette di qua gira la parola sette di qua la tua è una carta nera la tua è una carta nera il dieci di fiori no dieci di fiori tocca a Maurizio ma non avete una carta nera non avete una carta nera Maurizio la tua è una carta nera se la tua è una carta nera no mi guardi di quale eh vediamo un po' c'è un po' è ok basta i tessi di guadri No, non lo spogli a tutti. Stai spogli a tutti. Stai spogli a tutti. Diti qua. La canta di legge qua. No, no, no. Stop. Qui, così. Guarda lì poi, no? Inizia la pure nel mezzo. Ok. Quindi la sua carta si può girare. E qui nella sua parte. Cioè che io non voglio neanche vedere. Troverò, e come ti guardavi qui, io deduco che sia lì circa. Non lo so. Però se non è una carta rossa, prendiamo un po' di carta. Non è tra queste, giusto? Sì. Sono tutte rosse per quanto presto. Quindi, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 6, 7, 8. Sono tutte le carte. E poi andremo a tenere. Queste due. Quindi queste altre tre. Tocca una carta. E la prendiamo. Siamo rimasti con una carta sola. Aspetta. Che carta hai scelto? Glippga che il Dio. Siamo negati, E questi tre. E sei che uno passeato, ma abbiamo agito. Magia, ma poi te! Guarda domani. C'è una prop propietà. Grazie a tutti 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 Grazie a tutti